Dopo il ritorno del difensore futuro capitano Jacopo Silva, il Piacenza punta su un altro ritorno come quello di Mattia Corradi. Ultima stagione da sorpresa alla Prosesto, offerte importanti in Serie C, però perché tornare in bianco-rosso, soprattutto con uno sguardo al presente ma anche al futuro perché a 33 anni guardi anche all'ultima parte della tua carriera che si spera appunto piacentina. Ho fatto una scelta forse per la prima volta più di cuore che di sportiva, però quando mi ha chiamato il direttore ho sentito qualcosa che mi ha spinto a scegliere di tornare in un posto dove sono stato bene e che spero possa accompagnarmi magari fino al termine della carriera e magari anche oltre. Il tuo ritorno, quello di Silva, in società è tornato Marco Gatti, Alessio Sestu, tuo ex compagno, nuovo direttore sportivo, si sta cercando di ricreare quel clima del 2018-19, quella stagione importantissima. Com'è l'ambiente in società, quali sono i primi orizzonti nonostante l'incertezza per obiettivi personali di Mattia Corradi ma anche quelli di tutto il Piacenza. Il gruppo appunto sta cercando di ricreare quantomeno l'entusiasmo che eravamo riusciti a portare e da questi pochi giorni che sono qua le sensazioni sono positive, vedo già uno spogliatoio amalgamato, chiaramente in base a quello che ci diranno i tribunali eccetera la società farà valutazioni differenti, però noi hanno già iniziato a lavorare e dobbiamo continuare a lavorare indipendentemente da quella che sarà la nostra categoria. Grazie a tutti.